fabrizio corona evade dai domiciliari e va da nina moric questa è la notizia di oggi dove praticamente al centro della dell'attenzione c'è proprio fabrizio corona non c'è pace per fabrizio l'ex moglie nina moric gli dichiara guerra e c'è ancora guerra tra i ex coniugi in realtà fabrizio corona ha evaso dalle notizie apprese ai domiciliari e va in casa di nina moric corona avrebbe evaso poiché stava cercando proprio dei soldi richiesti a nina moric in realtà l'ex di corona nina moric abita in un appartamento nella zona di fondazione prada dove vive proprio con il figlio nella serata di venerdì 29 aprile è stato necessario proprio l'intervento dei carabinieri di milano per sedare la lite come si legge sul corriere della sera corona che sta contando una condanna definitiva e domiciliari per ragioni di salute si è presentato alla porta dell'appartamento dell'ex moglie accusandola della spedizione proprio di alcuni soldi che lui a suo ritorno a casa non avrebbe più ritrovato in amore ci a quel punto avrebbe chiamato 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri stessa cosa ha fatto fabrizio corona lamentando appunto il furto subito quando però i militari del radiomobile sono entrati nel palazzo si è chiarito che non ci sarebbe stata alcuna aggressione fisica alla donna la quale da par suo ha respinto con fermezza l'accusa di essere la responsabile della sparizione dei soldi i militari hanno comunque placato gli animi in pochi minuti corona spesso molto turbolento davanti alle forze dell'ordine sarebbe questa volta invece sempre rimasto calmo e addirittura anche collaborativo i carabinieri hanno quindi escluso che ci fosse stata un'aggressione ai danni dell'ex moglie tutto quindi si è diciamo concluso in una bolla di sapone però pare inoltre che corona avrebbe denunciato per evasione in quanto non aveva permesso di trovarsi fuori casa in un determinato orario essendo l'ex dei paparazzi ai domiciliari quindi è stato proprio denunciato per evasione se vi è piaciuta la notizia mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24